Voglie tournà e Teresa Desio è tornata davvero. Il concerto Revival, che porta in esecuzione i suoi brani più celebri, ha dato occasione al pubblico presente a Ravello Festival di rincontrare le sonorità dell'artista nata a Napoli e cresciuta a Cava dei Tirreni, che rivoluzionò il panorama musicale degli anni Ottanta, grazie alla giusta miscela tra la sua particolarissima voce e il melting pot tra tradizione campana e musica moderna. La brigantessa è così andata in scena, forte del suo essere un punto di riferimento per tutti coloro che hanno riscoperto suoni e melodie del meridione, coinvolgendo tutti i presenti nel belvedere di Villaruffolo, con ciò che l'ha resa celebre nel panorama musicale internazionale, essere una cantautrice coliedrica che ben si muove tra le sue radici. Direi che da quando ho iniziato questa lunga strada nella musica, le nostre tradizioni, la tradizione e la cultura del sud dell'Italia sono sempre state il mio traino più forte, insomma i miei maestri, le mie maestre affondano comunque le loro radici nella cultura popolare e nella tradizione. A me piace molto, come chi mi ha seguito in questi anni sa, mescolare quello che ci arriva dalla tradizione, mescolarlo con la sperimentazione, con l'attuale, con i suoni di oggi. Grazie a tutti.